Non ci sbilanciamo, però io punto al massimo sia nei 10.000 che nella mezza maratona. Niente proclami dunque, ma anche la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per far bene in entrambe le gare e portare a casa due piazzamenti di prestigio. Antivigilia dei campionati europei di Amsterdam, Veronica Inglese sarà impegnata mercoledì sera alle ore 18.55 sui 10.000 metri e domenica mattina alle 9.30 nella mezza maratona. Tra un mese a Rio de Janeiro la campionessa barlettana dell'esercito italiano coronerà il sogno di partecipare ad un'Olimpiade. Per il momento però è concentrata solo ed esclusivamente sulla rassegna continentale. Sono molto concentrata su Amsterdam e infatti penserò alle Olimpiadi solo dopo Amsterdam. Appena sarò tornata, appena prenderò l'aereo per il ritorno, spero contenta, inizierò a pensare a questo 10.000 di Rio. Di recente ha vinto sui 5.000 metri a Rieti il quarto titolo assoluto in carriera. Ennessima conferma di un 2016 fino a questo momento da incorniciare, ma il meglio forse deve ancora venire. Dopo veramente anni in cui non ho corso, neanche d'estate per via degli infortuni, di allenamenti che evidentemente non erano sbagliati perché mi facevano sempre fermare e mi facevano far male. Nonostante questo ho comunque fatto dei risultati che mi hanno fatto sempre ben sperare e appunto alla fine ci ho creduto e ora è veramente un sogno che si avvera questo 2016 così pieno di risultati. Veronica Inglese è l'unica atleta della BAT in gara ad Amsterdam, ma nella capitale dell'Olanda potrà contare sullo sostegno virtuale della sua città Barletta e dell'intera sesta provincia. Io penso sia l'80% delle mie forze. Questo grande amore che hanno i barlettani, il mio territorio per me, sapere che mi seguono, che credono in quello che io faccio è la massima spinta che un atleta può avere, anche perché veramente affrontiamo tanti sacrifici, momenti molto difficili. Ci sono momenti di gioia, ma ci sono veramente momenti difficili. E appunto grazie all'amore che io sento da parte di queste persone, io veramente sono molto spronata, posso far uscire da me il 110% solo grazie a questo. A rappresentare la Puglia agli europei infine ci sarà anche Rosalba Console, l'atleta di Martina Franca, tesserata con le fiamme gialle, parteciperà domenica alla mezza maratona.